Grazie al webinar di e-commerce school, io sono Francesco Chiappini e oggi parliamo di business plan per e-commerce, quindi di tutto quello che riguarda la pianificazione prima di lanciare il nostro business online, una cosa che viene o non fatta per niente oppure viene fatta con i piedi. Questo ve lo dico proprio perché la maggior parte degli e-commerce o che ci contattano comunque stanno nel settore da tanti anni, raramente hanno già un business plan o comunque spesso c'è proprio la volontà di farlo, quindi c'è proprio una mancanza educazionale a riguardo o forse non se ne comprende adeguatamente la necessità. Che cosa andremo a vedere? Ho di dettaglio, per chi si è connesso adesso, le slide prevedevano tutta una parte legata agli errori che commettono gli imprenditori e-commerce prima di lanciare appunto il loro business, l'ho dovuta togliere perché erano 150 pagine, però faremo un webinar la settimana prossima verticale solo su quello. Quindi oggi parleremo di una piccola introduzione, quindi perché realizzare un business plan, quelle che sono le finalità, perché spesso si pensa al business plan solamente per chiedere soldi a una banca o a un partner, perché non devi andare dal commercialista e tutti gli argomenti da includere poi nel dettaglio nel business plan, quindi faremo una carrellata proprio step by step di tutte appunto quelle attività da andare a inserire all'interno. Quindi perché realizzare un business plan? Innanzitutto sembrerà scontato, però dobbiamo sapere quanto ci costa l'intero progetto. Uno degli errori più comuni che avviene è che l'imprenditore Tizio si incontra con l'imprenditore Caio, uno ha 20.000 euro in tasca, l'altro altrettante e dicono bene con 40.000 euro sono soldi sufficienti per fare l'e-commerce e vanno online. No, questo è un errore strategico di base perché non bisogna partire dal budget che si ha in tasca, ma da quello che necessita il mercato di riferimento per entrare in quel determinato settore. Quindi dopo lo studio di fattibilità io so quanto mi serve per entrare in un settore, perché più è ampio il settore, più budget ho necessità. Quindi se ho meno soldi, non voglio chiedere finanziamenti, eccetera. Che cosa faccio? Piuttosto ridimensiono il mercato da attaccare, vado a lavorare su nicchia di mercato dove per entrare mi servono meno fondi e dove la competizione è minore. Di conseguenza non potrò mai fare milioni e milioni di fatturato perché vado a lavorare proprio su delle piccole nicchie di mercato. Secondo punto, per gestire flussi di cassa. Attraverso il business plan l'imprenditore può sapere che ogni mese gli entrano X e gli escono Y, soprattutto gli escono Y. Avere questo panel con entrate e uscite mensili per almeno i primi tre anni permette di lavorare in maniera tranquilla sia l'imprenditore stesso ma anche l'agency e tutti i partner, perché altrimenti l'imprenditore una volta che va online con l'e-commerce e vede che non incomincia a vendere ma invece le uscite ci sono e sono costanti, molla tutto, vuole chiudere, si scoraggia, perché? Perché non è stato pianificato nulla in dettaglio. Oltre questo le key pi, quindi le key performance indicator, ossia gli obiettivi in metriche che ci servono da monitorare nel tempo. Quali sono? Dopo li vediamo in dettaglio, però può essere l'aumento dello scontrino medio, l'aumento del tasso di conversione, l'aumento di lead, quindi di clienti, eccetera, eccetera. Questo serve per sapere che tipo di obiettivi bisogna inseguire, ci sono key pi macro, medie, piccole e le vediamo dopo. Insomma è importante appunto averle all'interno della strategia. Oltre questo è necessario il business plan per definire la strategia di posizionamento, non parliamo di posizionamento SEO organico, parliamo di posizionamento proprio commerciale del business, quella che è la value proposition, quindi come ci si differenzia, come si attacca al mercato, quali sono i motivi per i quali un utente acquista da noi e non da altri e tutto quello che è il piano marketing, cosa che spesso in molti business plan non c'è, in molti business plan c'è il conto economico e poi un fatturato buttato lì dai commercialisti. Il piano marketing con tutte le strategie divise per canale, vedremo poi in dettaglio. Infine come organizzare le risorse, i ruoli e le operatività interne, quindi chi fa cosa, altrimenti si parte che tutti fanno tutto e alla fine nessuno riesce a fare anche una sola cosa. Mi serve per accedere ai finanziamenti necessari laddove non ci sia budget sufficiente per autofinanziarsi o per fare quello che si chiama bootstrapping, ossia incomincio a fatturare e da lì mi autofinanzio. Oppure, che sembra a volte che lo si dà per scontato, spesso si riescono a risparmiare molte migliaia di euro, semplicemente rendendosi conto che quel progetto per una serie di criticità non sta in piedi. Quindi non è solo quello che a volte ci permette di guadagnare un business plan, ma anche quello che ci permette di guadagnare risparmiando, non investendo magari in quel business che di base è fallimentare. Chi deve realizzarlo? Altro punto molto importante. Sicuramente, idealmente, lo dovrebbe realizzare l'imprenditore formato, che quindi sa che cosa fare, se conosce il marketing, come un imprenditore dovrebbe conoscere il marketing, oppure un consulente che però sia indipendente e che non abbia interessi di gross selling. Che cosa intendo con questo? che se lo fate fare un'agenzia, l'agenzia avrà una serie di interessi nel vendervi dopo la piattaforma e il marketing, eccetera, eccetera, che probabilmente farà in modo di farlo andare per forza di cose bene quel business plan, perché ha una serie di interessi. Ovviamente sto generalizzando, non è detto che tutte le agenzie lavorino in questo modo, ci sono anche quelle virtuose, queste, però se c'è qualche imprenditore all'ascolto, insomma non è che ve lo devo dire io come funziona. Quindi è rischioso farlo fare a un'agenzia. Non può farlo chi non conosce a fondo il web marketing, i suoi canali, le strategie digital, ma soprattutto come si genera il fatturato, che è la parte importante poi del nostro business plan. Infine un consiglio che ti do, fidati sempre di chi lavora con stime a ribasso, è meglio lavorare con previsioni di generazione di fatturato, per esempio a ribasso, piuttosto che cifre buttate lì, insomma a caso. Le finalità possono essere diverse per il quale faccio il business plan. Molti hanno la necessità pura di accedere a dei finanziamenti e quindi gli servono dei business plan che sono una sorta di pitch, quindi massimo 20, 25, 30 slide proprio massimo da presentare in banca, con un piano di impresa, una previsione di crescita, tutta la parte di conto economico, solitamente la parte legata alla strategia del marketing è una paginetta buttata lì a caso, perché in questo caso lo fanno per lo più i commercialisti, mentre se il tuo obiettivo è quello di presentarli, per esempio a imprenditori e soci, ma soprattutto a te stesso per sapere se quel business è fattibile o meno, ti serve un business plan molto molto più sviluppato, i numeri in questo caso devono essere trasparenti e possibilmente un pochino a ribasso, perché se devo andarlo a presentare con i soci o a me stesso non devo avere i numeri gonfiati, ma devo avere delle stime magari un pochino minori, cosicché sarà più facile raggiungere gli obiettivi, mentre se lo devo andare a presentare in banca, magari vado a fare un pochino di tuning sui numeri senza esagerare ovviamente, qual è il nostro modo di lavorare? Per esempio noi facciamo sempre una versione sviluppata perché la strategia è fondamentale e poi facciamo una version B come un pitch di 20-30 slide che rivediamo proprio appositamente per le banche. Allora per le domande mi state chiedendo le potete scrivere, però comunque io le rispondo tutta alla fine, quindi se riuscite a segnarvele e poi quando alla fine facciamo lo spazio domande le scrivete una a una e vi rispondo poi in maniera conseguenziale. Quindi possiamo avere una doppia finalità, la finalità però di farlo esclusivamente per un finanziamento, io lo giustifico nel caso per esempio ci sia proprio quella necessità, devo accedere ai fondi, punto. Ma un business plan, quello che mi serve realmente del business plan è tutta la parte di strategia che è all'interno e di crescita del mio business. Prima di farlo, ecco, vi potrebbe capitare se siete delle agenzie o comunque siete dei consulenti o fate business development che vi arrivi un cliente che vi chiede di un social network tipo Facebook. Insomma, lì è inutile mettervi a fare il business plan, basta dire sin dall'inizio, guarda, lascia perdere, per questo, questo, questo motivo qui gli risparmiate anche i soldi nel business plan e voi ne fate altri dove sapete che comunque un minimo di ritorno c'è. Quindi almeno lato nostro, nel momento in cui vediamo che dei business non stanno in piedi, lo diciamo sin da subito al cliente. Laddove invece ci possono essere delle possibilità, è chiaro che c'è necessità poi di andare in dettaglio, studiare il mercato di riferimento e fare l'analisi opportune per capire se poi ci può essere un ritorno nel risultato o meno. Un'altra cosa che consiglio di chiarire subito con l'imprenditore è che non è mai un progetto a breve termine, se vogliono fare operazioni mordi e fuggi c'è il trading, c'è l'immobiliare, non l'e-commerce. Noi abbiamo start-upato, passatemi il termine, anche e-commerce che in un anno avevano già raggiunto il break-even, però si era lavorato meglio in fase preventiva, cioè meglio si era lavorato in fase preventiva sui canali social creando una forte community e quindi nel momento del lancio dello start-up questo e-commerce aveva già una solida base di clienti sul quale poter generare subito del fatturato. Ci sono poi altre casistiche dove il break-even si raggiunge anche in sei mesi, in un anno, eccetera, dipende dal budget, dipende dal settore di riferimento, dipende dalla strategia, insomma possono dipendere da tanti fattori, però come tutti i business, perché questo vale per tutti i business, anche l'e-commerce è parte di quei progetti che necessita di due tre anni minimo per consolidarsi e o raggiungere il break-even o andare inutile. Ovviamente tutto si deve incastrare a dovere e il business plan ci serve proprio a questo. E come prima cosa poi bisogna fissare un audit iniziale per definire quelli che sono gli obiettivi sia di fatturato ma anche proprio strategici del business a medio-lungo termine. Perché non andare dal commercialista, quindi se c'è qualche commercialista adesso mi manderà dei fulmini, però è la verità, perché uno al business plan ti serve per la strategia non solo per trovare fondi, i commercialisti in maniera più assoluta non conoscono minimamente le strategie di marketing, i processi di start-up, di e-commerce, non ne hanno mai sentito parlare, ma anche di business development non ne hanno idea. Quindi qual è la loro difficoltà? Sotto il punto di vista del conto economico, il commercialista è bravissimo perché i conti te li tiene lui, anzi poi c'è da vedere anche che tipo di commercialista, però vi tiene i conti e quella è la parte semplice. Ma come genero il fatturato? Quanto mi producono i vari canali marketing? Quanto traffico mi porto con X soldi? Qual è il tasso di conversione? Il commercialista questo non può saperlo, quindi non può farvi delle stime di generazione del fatturato, quindi di fatturato 1, 2, 3 anni e buttano dei numeri lì a caso, prendendoli o dai competitor o da ricerche fittizie di mercato, oppure perché giocano a mora cinese con la segretaria e il numero che vi esce fuori lo mettono su business plan, adesso verrò bandito da tutti i commercialisti d'Italia e perché spesso, così chiudiamo il cerchio, sono dei contabili e non dei consulenti strategici, tant'è che spesso la consulenza strategica, diciamo anche fiscale, esula da quello che è il lavoro del commercialista che per lo più vanno alla fine a registrarci delle fatture e a darci a fine anno il bilancio. Quindi occhio, il business plan deve essere fatto dall'imprenditore, se l'imprenditore non ha preparazione si deve formare e farselo da solo, se non ha tempo deve delegarlo a chi è indipendente, però avendo sempre la capacità di saperlo leggere e di condividere la strategia, altrimenti prenderà per buono qualsiasi numero, qualsiasi pianificazione gli viene fatta da terzi. Bene, questa è una piccola premessa, andiamo ora nel dettaglio, andiamo a vedere su cosa includere nel business plan. Come prima cosa, preparate un'intervista da fare al cliente, la nostra è molto molto lunga, chiediamo più cose possibili, quindi al di là di tutta una parte di mission, che è più che altro per capire lato nostro, come intende il cliente il suo business e qual è la sua visione, perché la visione dell'imprenditore, il 90% delle volte è una visione distorta o comunque molto molto differente da quella del target di riferimento o poco legata al settore nel quale deve andare a entrare nello specifico, quindi quello ci fa capire la visione dell'imprenditore, poi si va nel dettaglio su tutta la parte logistica, dei prodotti, tutta la parte dei costi, quindi cominciamo a mettere già a bilancio tutti quelli che sono i costi, bisogna capire se si può fare economia di scala, se c'è il team interno, intervistare il team interno, capire quelle che sono le skill eccetera eccetera, quindi più l'intervista iniziale è ampia, quello che in generale vi consiglio è di creare processi, qualsiasi cosa fate processate sempre attraverso dei task o comunque attraverso proprio una scalabilità interna di tutti i lavori che fate e il briefing lo dovete perfezionare ogni volta nel tempo, ogni volta che c'è una domanda che vi siete dimenticati che andate ad aggiungere o comunque togliete invece quelle che non vi servono, quindi deve essere sempre tutto in progress nell'obiettivo di creare dei processi interni che semplificano sempre di più il lavoro. Fatto questo da cosa si inizia nel business plan? Ecco faccio una piccola premessa, considerate che il business plan l'ultimo che abbiamo consegnato era di 300 pagine, quindi adesso ne vediamo un'ottantina, è chiaro che tutto questo deve essere iper approfondito, però quello che oggi voglio passarvi nel business plan è che cosa dovete includere proprio a livello di step e qualche input vi do e delle best practice da seguire, è chiaro che tutto questo poi va approfondito, più le approfondite più andate a delineare quelle che sono le strategie da mettere in mano al cliente. L'analisi di mercato è fondamentale perché ci permette innanzitutto di capire lo scenario di mercato, quello che è il target di riferimento, quali sono i volumi, se è una nicchia oppure se è un settore ipercompetitivo, se entro nel settore delle farmacie che è un settore ipercompetitivo e non mi bastano 20-30 mila euro o 50, se devo entrare in una nicchia di abbigliamento, non so, caffè, racer che è una nicchia di una nicchia di una nicchia, so che più di 300 mila euro l'anno in Italia non posso farlo, poi vi dico anche come si tirano fuori questi dati e di conseguenza il budget sarà minore, quindi innanzitutto devo capire quanto è grande il mercato di riferimento, il fatturato che posso andarmi a ritagliare, ricordiamoci che il fatturato non mi scende dal cielo, il fatturato lo vado a rubare ad altri già presenti nel mercato, esiste un mercato, esistono dei player, esistono dei clienti che stanno acquistando da quei clienti, da quei e-commerce, io entro in quel mercato, mi devo differenziare e devo fare in modo di portarmi, allora mi dicono che qualcuno non sente, mi confermate che sentite? Perché forse, sì, ok, allora è un problema di chi non sente, il file ci sarà la registrazione che ve la invio, non verrà pubblicata su YouTube perché vediamo qualche dato sensibile oggi, però poi ve la invio via mail a fine lezione con un riepilogo di tutto quello che abbiamo parlato e la videoregistrazione, quindi già verso le 19 ce l'avrete, le slide non le mando mai perché me le copiano, quindi sono tra l'altro coperte da copyright, quindi è comunque sconsigliato farlo, però cercate di seguirmi, tanto l'importante è capire proprio il processo che c'è dietro, quindi è un settore in crescita? Sì, con quale ritmo cresce? Bene, perché il ritmo di crescita potrebbe essere utile per capire anche a quanto posso andare a crescere io anno dopo anno, anche se poi la crescita vediamo, noi la mettiamo tutta lato marketing e tutta lato strategia, non ci fidiamo tanto di quello che è la crescita del mercato perché poi ognuno ha la sua velocità e il nostro e-commerce deve andare più veloce degli altri. Infine quanto pesa retail, ci sono dei canali dove il retail pesa il 96% come tutti e ce n'è qualcuno dove pesa il 90% come per esempio l'elettronica di consumo, quindi se il retail è forte, chi sono gli attori del retail, chi vende nella GT, quanto le persone sono più portate ad andare nell'offerta offline piuttosto che in quella online, perché dico questo? Perché non potrebbe essere un'idea malzana quella di inserire dei punti vendita all'interno del nostro business plan, lo so che tutti pensiamo all'e-commerce, però di questo ne parlerò nel prossimo webinar, quindi è molto importante anche che mi seguite il prossimo perché specialmente su un cliente abbiamo, ah poi fondamentalmente lui l'imprenditore rovesciato il business model e grazie al web sta aprendo punti vendita, quindi l'e-commerce è lì, fattura, ma l'aumento di fatturato dopo dieci anni lo sta avendo con l'apertura di nuovi punti vendita, quindi bisogna scollegarsi dal puro online, ma vedere il mercato multichannel, quindi la multicanalità e vedere opportunità dove ci sono, non per forza non essere online. Bene, quindi per come primi dati, lo so che questi di casa leggono ormai sono indigesti anche a me, però fate innanzitutto tanta ricerca online con parole chiavi in long tail, quindi cercate articoli, non so se dovete cercare per esempio se il fatturato del cibo per animali sta crescendo, andate su google e cercate fatturato e-commerce, settore pet 2016, cioè lavorate con keyword long tail molto lunghe, cercate, 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 vi vengono fuori tantissimi studi, tantissime informazioni utili, selezionate sempre le fonti, quindi è importante anche la fonte, se l'articolo viene dal blog di mio nipote che l'ha fatto dopo l'esame all'università, lasciate stare, non è magari una fonte autorevole, quindi però trovate tanti già indicatori sul web. Questo di casa leggio ci serve uno per far vedere sempre al cliente la crescita dell'e-commerce, quella che è la torta dell'intero fatturato, in questo caso per quanto riguarda il settore di abbigliamento moda, abbiamo visto che la moda qui pesa l'1,6 di 28 miliardi, quindi stiamo già parlando di 460 milioni di euro fatti esclusivamente online, poi questi dati si devono essere presi anche questi con le molle, eccetera, però per far capire che comunque come vedete c'è un più su tutto, quindi il settore sta crescendo, poi si comincia ad andare un po' più nel dettaglio, quindi questo è un'altra slide, insomma ne potete mettere tutte quelle che volete per quanto riguarda la crescita dell'e-commerce, questa è la crescita degli utenti che sono online, quindi soprattutto potete mettere le informazioni riguardo i millennials, quindi le nuove generazioni che sono molto molto più portate ad acquistare online, il problema che ad oggi le nuove generazioni non acquistano molto è un problema economico perché c'è una forte disoccupazione in quella fascia d'età, quindi chi oggi potrebbe comprare molto online non ha tanto potere d'acquisto perché la maggior parte dei ragazzi dai 18 ai 25 anni sono disoccupati in Italia, questi sono i dati, non lo dico io, ma tra qui a 5 anni si spera che lavoreranno o tra qui a 10 anni si spera che lavoreranno comunque avranno più potere d'acquisto, le nuove generazioni a loro volta e sarà un mercato che probabilmente avrà un boom più grande di quello che ci si possa aspettare al momento. Poi io qui ho messo un po' di slide di diversi settori proprio perché non vi posso far vedere per NDA un business plan di un cliente solo, quindi ho fatto un po' misto e potete andare nel dettaglio con i dati, quindi qui la distribuzione è una domanda per tipologia di prodotti acquistati oppure questi li abbiamo presi da Eurostat, il mercato online Europa dell'abbigliamento diviso per paese e quali sono le crescite, oppure i motivi d'acquisto sempre nel settore di abbigliamento, questo preso da Netcom, quindi questi li trovate bene o male online. Se poi volete dei dati invece, degli insight o vostri fatti ad hoc o comunque andare a comprare delle ricerche di mercato, noi utilizziamo due, ultimamente sto utilizzando quasi esclusivamente Report Linker, lo utilizzo anche per lo più per studi internazionali, perché nel momento in cui un cliente vuole internazionalizzare trovate di tutto, sull'Italia non ci sono tutti i settori, perché comunque è ancora uno degli ultimi paesi nel mercato e-commerce, trovate però diverse cose, poi quando vi faccio la mail vi metto questo link a Drive, sono tutta una serie di report che ho scaricato nel settore abbigliamento e ve li giro così potete dare un'occhiata a che tipo di report potete scaricare, il lavoro è lungo, perché comunque c'è una persona che fa solo questo, importante, processate tutto, nel senso se potete fare voi tutto un business plan, ci mettete anche tre mesi se volete fare un bel lavoro, tre mesi no, ma due sì, quindi se processate e magari avete un team e fate fare un qualcosa, ogni pezzo a qualcuno, velocizzate e poi ognuno magari può andare più in dettaglio, perché comunque i report poi vi giro il link e qui ne abbiamo scaricato una trentina e sono tutti da leggere fondamentalmente. Se poi volete invece, avete dei clienti benestanti e che possono pagarvi a dovere, potete richiedere delle ricerche di mercato, ossia la Nielsen, ce ne sono tante, io ho messo le principali, la Nielsen o la GFK, GFK io le utilizzavo quando ho fatto startup per un grosso brand di telefonia, un distributore di telefonia e si compravano queste slide con i dati di settore, considerate che una slide, quindi su per esempio i pezzi venduti degli smartphone nel 2016 costava anche 2.500-3.000 euro una slide, quindi per dire quanto costa, però questi sono studi di mercato fatti appositamente, quindi solitamente lo fanno i grossi brand o i grossi brand già hanno i canali e quindi hanno magari dei contratti dove vanno a spendere anche un pochino meno. Con la Nielsen ho lavorato tanti tanti anni fa, però posso dirvi ora il tipo di pricing che hanno perché non ci sto lavorando quasi più, però insomma oltre queste ce ne sono anche altre, quindi se fate ricerche su agenzie e ricerche di mercato, ne verranno fuori diverse molte altre. Ecco, una cosa, in questa parte inserite più informazioni possibili, però senza essere troppo prolissi, perché altrimenti il business plan mi viene di 800 pagine, quindi quello che si fa solitamente è di mettere una decina di slide e poi tutte le ricerche le si mettono in appendice, quindi si mette una cartella con, guarda, questi sono tutti gli approfondimenti fatti sullo scenario e sul mercato in dettaglio, li trovi qui se li vuoi leggere, però quello che intanto è importante è presentarsi con una traccia da spiegare al cliente, anche perché se il cliente dopo due massimo tre ore che vi sta ad ascoltare e vi spiegate tutto il business plan, termina la sua attenzione, quindi ho fissato due appuntamenti, oppure se volete fare tutto insieme dovete comunque stringere e poi tenere in appendice tutto il resto. Poi, secondo step, buyer personas o marketing personas come lo volete chiamare, o comunque target, quindi a chi devo andare a vendere. Quando parliamo con spesso degli imprenditori in fase di briefing, a chi devi vendere, a tutti, qual è il tuo target tutti. Quindi viene fuori che spesso non c'è proprio la minima conoscenza del target di riferimento e è importante definirlo perché ogni target ha le sue modalità di acquisto, ha gli suoi interessi, è differente in termini proprio di intenti, di relazioni, di mille motivi. Questa parte qui considerate che è molto molto approfondita, quindi adesso vi faccio vedere proprio degli input, però lavorate molto sulla definizione del target. Se il sito è già online, partite, e questo è fondamentale farlo, dai sondaggi, quindi se, perché il business plan per forza deve essere un sito in startup, può essere anche un sito che è già online ma non sta vendendo e vuole fare tutta la pianificazione, quindi in questo caso devo mettere in attivo dei sondaggi, i sondaggi fateli sempre a risposta aperta, lo so che ci vuole più tempo puoi raggrupparli, però vi vengono fuori tante informazioni utili, chiedete informazioni sulla tipologia di cliente, quindi cosa mi puoi dire di te stesso? Bene, perché da lì mi vengono fuori informazioni per la value proposition, poi quali sono i tuoi competitor? Perché i competitor che ci dice Google o che ci dice il nostro cliente sono diversi da quelli che ha in mente il nostro target di riferimento, quindi bisogna fare una serie di domande, adesso non vado prolisso su questo, se ho già gli utenti, chi meglio di loro possono essere di aiuto per andarli a profilare, quindi inizio da lì. Se invece il sito è già online, posso partire sicuramente dall'analytics per capire i dati demografici ma anche i dati comportamentali, mi posso andare a aiutare con Facebook, Facebook offre degli insight che sono utili anche laddove non hai, diciamo, delle pagine attive e quindi vuoi fare uno studio proprio su un target di riferimento, va a inserire determinate parole chiave, magari geolocalizzate in determinate parti e vengono fuori diversi dati a partire da quelli demografici ma anche le pagine che seguono, piuttosto gli interessi che hanno eccetera eccetera, può essere molto interessante insomma capire che tipo di interessi hanno all'interno dei social per andare a fare audience ricerca all'interno di questi canali, ricordatevi che dovete sempre parlare con la lingua del vostro target, non con la vostra lingua perché sono loro che vi pagano, sono loro che vi già hanno fatturato, quindi il sito va modellato sempre sulla tipologia principe che acquista sul sito e bisogna scartare invece tutti quelli che o arrivano per sbaglio e c'è un problema se arrivano per sbaglio oppure quelli meno interessati, si può andare a analizzare poi tutta la parte legata alla tecnologia, questi sono sempre dati presi da Analytics, i device utilizzati e questo sito aveva un forte traffico da iPhone, perché? Perché abbigliamento di alta moda, quindi target alto spendente, l'iPhone è comunque rinomato per essere associato a un pubblico o alto spendente o comunque che ci tiene molto a diciamo le apparenze e quindi di conseguenza vado a farmi tutte le mie considerazioni, passato successivo e questo è un quadrante che utilizziamo noi per definire il tipo di buyer personas che naviga sul tuo sito, se già hai un sito crei questo quadrante in Analytics, se invece non ce l'hai, una volta che sarai online ti crei il segmento dentro Analytics e si incomincerà a popolare nel tempo. Questo spaccato si divide tra pagine e sessioni che vedono, questo quadrante scusatemi, pagine e sessioni che vedono gli utenti e la loro durata della visita, più un utente visita il sito e più è una tipologia di persone, adesso andiamo a vedere un pochino in dettaglio, non mi posso soffermare tanto perché abbiamo già mezz'ora, però per esempio chi sta molto sul sito e visita tante pagine e sessioni è un utente metodico, vediamo dopo ci sono quattro slide dove vi li spiego uno per uno, chi dura molto la visita e invece le pagine ne visita poche è un impulsivo, quindi passa poco tempo sul sito ma visita molte pagine, il competitivo invece chi è? è quello che visita poche pagine per poco tempo, infine l'umanista, che è il peggione, scherzo, molto tempo sul sito ma poco pagine, è proprio quello che va rilento eccetera. Noi grazie ad Analytics possiamo, grazie a queste due variabili, crearci dei segmenti e capire che tipo di utente abbiamo sul nostro sito. Col Marketing Automation addirittura possiamo utilizzare i segmenti e andare a fare personalizzazioni, quindi questa è una cosa un pochino più avanzata, non so se già mi seguite, comunque ne parlo spesso di personalizzazione web sui segmenti. Pertanto se l'utente sarà competitivo per questa tipologia di visitatori, che cosa farò? Utilizzerò dei titoli, dei sottotitoli che mettono subito in rilievo che cosa? I vantaggi e i benefici del business e come mi differenzio rispetto agli altri, questo è un modo per catturare subito la sua attenzione e portarlo avanti, perché decide lui fondamentalmente cosa vedere e dove navigare. L'impulsivo è un'altra tipologia di buyer personas, quindi in questo caso devo lavorare molto con un copy sincopato, ristretto, conciso, breve, utilizzare degli elenchi puntati, rendere ben visibile la value proposition e così via. L'utente metodico è quello che ha mille schede aperte sul browser, anche detto squalo che confronta 10 siti diversi, oppure quello che va sui comparatori, per intenderci. E in questo caso bisogna spiegare l'offerta nel dettaglio, includere i grafici eccetera eccetera. Infine l'unista, qui è importante lavorare molto sulla social proof, quindi la recensione degli utenti, le testimonianze e il contatto. Adesso non vado molto nello specifico, mi fermo quasi le buyer personas, però noi approfondiamo veramente tanto la parte di targeting e come vedete io parto sempre dai dati, quindi anche un profilo, se vado a individuare le variabili, in questo caso le pagine viste, le sessioni e la durata delle visite, mi servono per capire la tipologia di target. Partite sempre dai dati, mai dalle proprie convinzioni, se avete clienti, il sito è già online, attivate i sondaggi, oppure attivateli appena incominciate ad avere un database di utenti che acquistano con regolarità, perché i sondaggi li devo fare su chi acquista e non sugli altri, cioè sugli altri li posso fare per altri motivi, quindi perché non acquista eccetera eccetera, ma le migliori informazioni le devo andare a chiedere su chi acquista regolarmente sul mio e-commerce. Non approfondisco per personas, però avete capito l'importanza di definire il target, passo a quella che è l'analisi della concorrenza. L'analisi della concorrenza la posso fare in diversi modi, quindi innanzitutto devo individuare quelli che sono i competitor. I competitor me ne può passare solitamente, me li passa principalmente il cliente, ma il cliente ha la sua visione, spesso non li conosce, può capitare anche questo, per una serie di motivi, perché magari non vuole vedere gli altri come lavorano, non gliene è mai fregato eccetera eccetera. Li devo poi ricercare su Google, ma non solo un giorno, perché magari potrebbe essere che quel giorno il competitor X ha finito il budget e quindi non è presente sull'organico, ma non lo vedo neanche nel pay per click. Posso fare ricerche sui social, insomma devo andare a definire io quelli che sono i principali competitor, chi è forte sull'organico, chi investe in pay per click, chi mi passa il mio cliente, li definisco, mi raccomando mai più di 6-7 competitor, perché ogni singolo competitor che dovete analizzare ha un costo in termini di tempo e anche di altre cose che adesso vediamo, una volta che li avete definiti passate a studiarlo uno per uno. Questo è l'esempio di, questa è anche una slide vecchia, adesso l'abbiamo perfezionata, però per ogni competitor facciamo uno studio molto molto approfondito e ve lo consiglio, che cosa va analizzato? Quelle che sono le visite mensili circa, perché comunque questi sono dati che prendiamo dai tool, quindi seozoom, semrush, che sapete meglio di me, che insomma vanno presi molto molto con la molla, idem per quello che è il traffico organico, quindi il traffico organico lo prendiamo da seozoom, le visite mensili ce le tiriamo fuori da quello che è un ipotetico fatturato e tasso di conversione, insomma andiamo a fare tutto un decalcolo, i backlink li vediamo sempre da tool come semrush oppure majestic seo eccetera, vediamo come su quali canali sono attivi adiwars e social, quella che è l'autorità del dominio, questo lo vediamo sempre su seozoom o semrush, le varie notazioni varie e poi quelli che sono i servizi, quindi tempi di consegna, scusate spese di consegna, tempi di spedizione, pagamenti, reso gratuito, quanto ha fatturato, questo ce lo andiamo a prendere dal bilancio, quindi scarichiamo i bilanci, nel bilancio puoi andare a vedere tutte quelle che sono le note a bilancio, quindi spesso per esempio ci sono aziende che fanno sia B2B che online che offline, è più difficile capire quanto fanno sull'online, invece ci sono quelle che fanno solo vendita via web, quindi prendete il fatturato e quello è, in questo caso noi dovevamo capire quanto facessero anche su altri canali, per esempio sul parallelo, non parallelo, sul farfetch che è un marketplace e stimiamo che altre vendite web sia proprio quel fatturato lì, è chiaro che questo è un riepilogo veloce che si dà al cliente, perché altrimenti si perdono due giorni poi quando vi si spiega, però sempre in appendice ci va tutto lo studio approfondito, fatto su SEOZoom, sulle parole chiavi, lato SEO eccetera eccetera, e sempre per fare una sintesi di quella che è l'analisi da presentare al cliente dello stesso sito, facciamo una piccola analisi social, quindi come sono posizionati sui social, i pro e contro, legati a quelle che possono essere strategie, consegne eccetera, quindi quali sono i punti di debolezza dei miei competitor, bene, perché se non me li segno non capisco neanche come andarmi qua a differenziare nella creazione della mia value proposition, questo va fatto per tutti i competitor, fino ad arrivare anche infine ci mettiamo anche i big player, ci mettiamo i competitor presente nella GD, perché anche quelli sono importanti, non solo perché rubano mercato e il 96% delle vendite avviene ancora nei negozi, ma perché molte GD che non sono ancora online potrebbero esserlo, quindi dobbiamo vedere i competitor che sono attualmente online, ma anche quelli che potrebbero essere online da qui a, non so, 5-10 anni, un anno, 3 mesi, eccetera. Quindi, analisi di competitor, anche quella va approfondita, adesso devo andare un po' più veloce perché altrimenti non andiamo fuori, posizionamento commerciale è un altro aspetto molto molto importante, qui proprio tre slide per farvi capire il concetto, il logo bisogna capire se effettivamente è contestuale a quello che vuole vendere, questa è la value proposition, ossia quello che bisogna comunicare, la maggior parte degli e-commerce oggi non ha value proposition e nemmeno la comunica se ce l'ha, quindi è proprio un errore base gravissimo, questi sono concetti basici, quindi oggi io non posso avere un'azienda, non avere una value proposition da comunicare agli utenti con il quale dico tu devi acquistare da me per questo motivo, questo perché gli utenti sono già utenti di altri e-commerce, quindi io devo andare a rubare quest'utente a un mio competitor, poi ci sarà un attantum, il cliente nuovo che arriva che non ha mai acquistato, sì ma è una piccolissima percentuale, come faccio a rubare fatturato il mio competitor, mi devo posizionare per differenza, crearmi quello che si chiama USP, quindi proposizione unica di valore e non basta ovviamente, però almeno è la base, perché poi mi serve martellare col marketing, un visual forte eccetera eccetera, quindi non vado nel dettaglio, non vale proposition, ne abbiamo parlato a lunghissimo nei corsi, nel blog, è una parte fondamentale, non ve la svelo quelle che sono le tecniche, comunque sono anche un po' in parte dei segreti di lavoro, però insomma studiate brand positioning, perché è una parte fondamentale e senza quello e-commerce non lavora, quindi senza questa parte del posizionamento commerciale, il mio business plan lo posso prendere e buttare al mare, perché fondamentalmente è quello che mi fa vendere, questo sito che fondamentalmente non si differenzia, però si trova in un settore dove è in cima alla catena distributiva o comunque acquista molto molto bene, non abbiamo fatto altro che posizionarlo comunicando quello che vende e la loro forza principale che è la grandezza del magazzino e la grossa quantità giacenza di prodotti in pronta consegna, mentre altri lavorano magari con prodotti a una settimana, due settimane, tre mesi eccetera eccetera. Comunque per ogni, questo è un esempio, l'unico, uno dei pochi che potevo farvi vedere, però lavorateci molto, anche il copy è fondamentale, la value proposition deve contenere le risposte a che cosa? Le domande che l'utente si fa quando arriva sul sito, perché devo acquistare da te? Cosa mi offri di più rispetto a chi sto già acquistando? E che garanzie e benefici avrò acquistando il tuo prodotto? Anche perché gli utenti arrivano sul tuo sito e hanno già in mente Amazon, Ebay, Google Shopping, comparatori, il sito competitor eccetera eccetera e quindi se tu gli comunica e gli dai subito in pasta immediatamente motivi per stare da te, quindi se io in questo caso sono un muratore o comunque mi interessano prodotti edili e arrivo sul sito e vedo che questo sito è verticale specializzato per me e poi non è neanche la definitiva, perché la definitiva parlava anche di specializzazione, quindi è, non so, ediliamo è l'e-commerce specializzato in fornitura di prodotti personali per eccetera eccetera, quindi anche la specializzazione è fondamentale, anzi senza anche, la specializzazione oggi è fondamentale per posizionarsi con i siti generalisti che sono un pochino tutti uguali. Dove deve andare la value proposition? Quindi in questa, nella home page, nella slide principale e serve un'icona a fianco al logo da comunicare o comunque se poi si vuole allargare studiate che cosa significa visual hammer, insomma che non è un'icona possono essere tante cose, ma qui non ho adesso il tempo, bisogna ragionare sulla parte dei punti di forza e come andarsi a differenziarsi dai competitor, quindi dopo verrà ripreso l'approfondimento nella strategia. Per poi passare a tutta la parte IT web, anche qui altrettanto vasto, quindi tante cose da parlare, bisogna fare tutta quella che è un'analisi tecnica funzionale del progetto, quindi in questa parte mi affianca un analista tecnico e che fa anche il programmatore, perché? Perché devo capire dove interveniamo, c'è già un sito esistente, che cosa bisogna farsi con questo sito, oppure bisogna fare tutto ex novo, bene, che tipo di gestionale c'è, che tipo di piattaforma integriamo, che tipo di gestionale finanziario, quali sono gli obiettivi di scalabilità del progetto, insomma va fatta un'analisi veramente ad hoc, anche perché altrimenti i costi che vanno poi messi sul preventivo possono essere molto differenti da quelli poi finali. Quale CMS si sceglie, tutte le integrazioni, cosa automatizzare, la struttura del sito, i software, i pagamenti e tutte le garanzie da inserire. Quindi la scelta, partiamo proprio dall'architettura, questo lato SEO è fondamentale fare questo lavoro, quindi bisogna fare tutto un lavoro sulla keyword research, capire lato SEO, che tipo di struttura andrà a mettere, non ragionare però solamente lato SEO, ma pensare anche i percorsi migliori per l'utente, questo è fondamentale, quindi bisogna far felice sia Google, ma principalmente vi dobbiamo far felice il nostro utente, facendogli trovare nel menu o comunque all'interno della navigazione quello che sta cercando, importante quindi definire quella che è l'architettura, perché nel momento in cui la definirò e l'andrò a dare attraverso una sitemap in bocca a Google, in pancia a Google, dopo sarebbe meglio non cambiarla o comunque cambiarla minimamente. Se la struttura del sito già c'è, lì già sono dolori, bisogna capire se cambiarla, se non cambiarla, quanti anni online, eccetera, tutti i flussi interni da automatizzare, quindi come si automatizzano gli ordini, le mie transazionali, i resi, le spedizioni, i pagamenti, qui per ognuno poi c'è uno spaccato che si va in dettaglio e la piattaforma scelta può essere Magento, può essere lato mio, insomma, o si va su dei SaaS per progetti veramente a basso budget e lì si integra con i Marketplace, può essere una Shopify, una Store Eden, oppure se devi andare su un Prestashop non capisco perché non andare su Magento, magari in questo preciso momento, cioè Magento 1, Magento 2, non è il momento migliore per fare questa scelta, però quando la 2 sarà stabilizzata, anche in ottica di rivendibilità, di scalabilità e anche in ottica SEO lavora bene, oltre che sulla sicurezza, e insomma anche Magento mi sembra una piattaforma molto molto solida con la quale lavorare, però non è la piattaforma che mi fa vendere, questo ne abbiamo già parlato e ne riparleremo più avanti. Dopo questo, tutti i software da inserire, quindi, e il perché? Non so, devi fare marketing automation, bene, Sales Manager, Bunting, Adab, insomma quello che vogliamo inserire, quelle che sono le features e il costo annuale già chiesto per quella tipologia di cliente, tutte le analytics, vabbè Adiworth, Merchant Center, eccetera, eccetera, Hotjar che serve a fare sondaggio, adesso non vi sto a spiegare i software, giustamente, solo per farvi capire che comunque ogni tipologia di progetto può avere l'interesse di inserire un software piuttosto che un altro, non è che vanno messi tutti flat su qualsiasi progetto, c'è chi magari invece di Hotjar ha bisogno di fare studi più approfonditi sulle mappe di calore, bene, Crazy Egg, oppure l'Helpdesk o Zapier per fare le liste di Facebook, piuttosto i test, però come vedete, insomma i costi qui incominciano ad essere già interessanti, oltre ai strumenti di misurazione, eccetera, eccetera, questi sono strumenti per inserirsi nei marketplace, le recensioni, insomma inserite quelle che volete, cioè per chi lavora con uno e chi lavora per un altro. Poi se il sito è già online, bisogna andare a fare le correzioni su tutta la parte di UX, quindi di CRO, perché spesso ci sono degli errori veramente grossolani che bisogna sistemare subito, quindi si fa un'analisi delle criticità, si elencano al cliente quelli che sono gli errori più grossolani da fare, quindi manca la ricerca potenziata, qua serve un numero verde in evidenza, togliere i social, mettere la value proposition è solo una slide, inserire la chat, inserire 5 garanzie qui davanti, eccetera, eccetera, questo insomma avevano tante tante slide doc, se il sito invece non è online, quindi non c'è il sito, che cosa facciamo? Inseriamo 50-60 slide di best practice che il cliente avrà a disposizione nel momento in cui andrà in agenzia o si farà fare il suo e-commerce, avrà delle linee guide, su linee guida con il quale fare appunto al meglio, almeno in partenza un e-commerce che sia un minimo navigabile e usabile. Passiamo poi scusate a quelli che sono i ruoli e l'operatività interna, anche qui fondamentale capire cosa, chi fa tutto questo? Ah ma non devo fare tutto quanto, bene, se tu non devi fare tutto quanto sappi che i tuoi competitor lo fanno, quindi mi raccomando rendersi conto che se non li vuoi fare però comunque parti con uno svantaggio competitivo a livello proprio di produttività e potete vedere quanti sono le attività da fare, sono veramente tante. In questo caso andiamo a definire quelli che sono le varie attività, se vanno all'interno o all'esterno, il team interno deve avere già definito sin dall'inizio chi fa cosa, quindi ecco che il ritorno è importante anche se già c'è un team di intervistare anche loro per capire le loro skill, i loro obiettivi, le loro motivazioni, anche le loro volontà di crescita. Per altri clienti facciamo anche noi il servizio proprio di recruitment e di placement all'interno e anche di formazione delle persone stesse e bisogna sin dall'inizio capire che cosa dare fuori, che cosa dare all'interno, qui si aprirebbe un discorso lunghissimo e magari ne parleremo un'altra volta se conviene fare più all'interno che all'esterno, ma se già mi seguite un pochino insomma sapete qual è il mio punto di vista. Infine le considerazioni, ecco le considerazioni perché le ho lasciate qui, perché in fondo ad ogni paragrafo, capitolo del business plan ci sono sempre le considerazioni, dei macropunti, secondo me non è sbagliato che il business plan abbia anche molto testo, perché? Perché il cliente quando un giorno se lo vuole rileggere, magari attraverso le slide ha più difficoltà a ricordarsi tutto, mentre rileggendosi magari così tramite dei bullet point è anche più comodo la lettura. Oltre tutta la parte dei ruoli, che comunque anche quella è lunghissima, adesso ho messo tre slide, c'è tutta la parte legal, quindi legale, che cosa fare, come aprire la partita IVA, quelli che sono i cookie, insomma tutta una parte già predefinita, che questa la copiamo e la incolliamo, tanto è quella, almeno che non cambiano determinate leggi, se vende all'estero c'è tutta una parte di internazionalizzazione, per poi passare le KPI, quindi stiamo entrando un po' in quella parte del marketing, adesso mancano 10 minuti, quindi devo accelerare un pochino. Le KPI, quello che dicevo prima, servono perché devo capire che strategia avere sui visitatori nuovi e di ritorno. Sui nuovi, per esempio, una KPI è quella di abbassare il CAC, che non è una parolaccia, ma il costo di acquisizione clienti, di aumentare il tasso di conversione. Sui già clienti, invece, oltre il tasso di conversione, devo andare a lavorare su l'aumento dello scontriamo medio attraverso attività di cross-selling e l'aumento del margine commerciale e l'aumento dei riacquisto della customer lifetime value, ossia di quante volte riacquistano durante il loro ciclo di vita. Devo darmi degli obiettivi in termini di numeri, ovviamente questi obiettivi devono essere perfettamente raggiungibili e non buttateli a caso. Le KPI principali possono essere tante, come vi ho già detto prima, ma posso lavorare anche con KPI intermedie, per esempio, devo aumentare le pagine viste per utente, devo aumentare gli oggetti nel carrello, devo diminuire in questo caso il tasso dei resi, devo aumentare il numero di backlink, quindi le KPI possono essere anche parallele e complementari alla vendita, possono essere anche legate al servizio, per esempio. E infine tutta la parte di generation, quindi il database di mail, quanti farli all'interno dell'anno. Ovviamente poi questo viene tutto spiegato, adesso ve l'ho un pochino rassunto, più il progetto è grande e più dovete lavorare verticali sulle KPI, quindi invece se il progetto più è piccolo e più bisogna concentrarsi sulle macro KPI, quelle principali, perché non c'è spesso nel team nella potenza di fuoco per andare a lavorare come fa Jux su KPI che lavorano al centesimo, per esempio. Quindi il piano marketing, qui si parte con tutta la strategia, la strategia se c'è una parte B2B deve includere il B2B, quindi come assicurare i crediti commerciali, fare video, come utilizzare i social, come far strutturare tutta la parte di login, il listino prezzi, come fidelizzare gli utenti, eccetera eccetera, tutte le sales letter, tutto quello che riguarda la strategia del B2B. Tutta la parte di SEO, quindi analisi e strategia SEO, analisi dei competitor, quelli che è in prima pagina, in seconda e in terza, come lavorare sulle chiavi, quindi iniziare con le chiavi a brand, quindi chi cerca per esempio direttamente di liamo, le chiavi già localizzate, negozio materia, questa è una strategia SEO che serve a partire con le chiavi più facili per indicizzarsi, quindi col tempo poi vado a lavorare sempre meglio. Analisi dei backlink, come lavorare sulle long tail, insomma lato SEO si va molto molto in dettaglio e si dice al cliente come operare sia in fase iniziale sia nelle fasi successive, come lavorare sulla keyword research, come trovare le domande, questo si chiama password public ma è una funzione che adesso ho inserito anche su zoom, quindi potete vedere quelli che sono gli argomenti per fare anche content marketing, la parte SEO veramente è molto molto lunga di solito, adesso vi ho messo un pochino le slide principali. Tutta la parte di pay per click fondamentale, perché? Perché al cliente gli dico guarda investi su shopping, investi 30 centesimi il CPC medio, il CTR l'1%, investendo 3.000 euro al mese avrai 8.000 visite sul tuo sito, il ROI previsto sarà di 20.000, perché poi moltiplichiamo 8.000 che sono le visite, cioè scusate, moltiplichiamo le transazioni che sono 8.000 diviso 100 per lo scontrino medio. Questo è un calcolo del ROI semplicissimo, è la base di chi fa marketing e voi mi chiederete quindi io intendo la domanda come fai a sapere CTR? Beh, da un lato abbiamo 15 anni di storico e quindi bene o male abbiamo su Analytics dei dati di competitor o comunque di settore che sappiamo bene o male quanto si fa. Ci teniamo sempre un pochino più bassi di quelle che sono le previsioni, perché io personalmente preferisco tenermi conservativo e poi fare bella figura dopo, perché se già il business sta in piedi conservativo significa che ci si può arrivare tranquillamente risultati. Queste previsioni le andiamo a fare su tutti i canali, indicando le varie tipologie di campagne, come farle eccetera, ma soprattutto approfondendo in dettaglio anche come farle, quindi se andiamo a parlare di social io gli devo spiegare anche come farle queste attività e quanto costa, quindi se vuoi la pagina ti costa il like da 15 centesimi a 28 centesimi, questo lavorando nel settore e per tanti clienti, meno male i dati sono quelli, ce li abbiamo nella nostra Analytics, ovviamente non è che andiamo a dire a un cliente di chi è quel dato, però indicativamente sappiamo quello che può costare anche a livello spannometrico, questo fino a quando non si va online, perché poi queste mi servono per le previsioni, quando vado online faccio dei test, vedo se ci sto dentro e se corrispondono queste metriche e poi mi vado ad aggiornare tutte le mie previsioni con quelli che sono i dati reali. Quindi campagne per i negozi, come si fanno, quanto rendono eccetera, piuttosto le lead ads che adesso vanno molto, come si fanno, quello che ci serve, Zapier eccetera eccetera, gli investimenti per Facebook, per Instagram, il remarketing su Facebook, se lo devo fare con Adrol quali sono le tra virgolette, se no mi denunciano le fregature che sono dietro a farlo fare ad agenzie esterne piuttosto che farlo direttamente. e tutta la parte di automation, quindi prodotti raccomandati, cross selling, le mail marketing one to one, i pop up per la newsletter, le mail personalizzate, come questa per i clienti specializzati eccetera eccetera, quindi c'è tutta la parte di marketing automation con un workflow di automazioni, quindi qui c'era Sales Marco e l'interesse era di lavorare anche con dei negozi di questo cliente, quindi abbiamo creato proprio tutto un workflow alla base con la quale andare a lavorare sulla multicanalità, la parte digital PR influencer, ovviamente se va inclusa, bisogna trovare gli influencer, capire quanto costa, farsi fare dei preventivi, dare opzioni come Buzzle, che se si vuole partire con poco budget può essere interessante, per chiudere to do list 12 24 36 mesi, quindi quello che devi fare proprio scritto dalla A alla Z, poi qui l'ho messo così, ma diamo anche un ordine proprio temporale perché è fondamentale darlo, con le scaldenze, per passare alla parte di budget, quindi quello che è il budget marketing diviso per il 2017 diviso per canale, ovviamente questo abbiamo diviso la torta perché sin dall'inizio ci voleva diversificare il marketing su più canali, poi più il budget è piccolo più lo dovete concentrare in uno o due canali massimo insomma, quindi vedete, è chiaro che questo è il modo giusto di lavorare, differenziare, misurare e poi capire dove andare a allocare il budget, considerate sempre che il budget non devo per forza allocarlo solo dove è un ROI positivo, perché fare marketing non significa per forza di cose guadagnarci sempre e comunque, fare marketing significa anche avere visibilità, significa comunicare con un target, incominciare a entrare nella mente di quel consumatore, Orris insegna che bisogna martellare gli utenti con il nostro messaggio pubblicitario, che ovviamente deve avere un senso, deve essere posizionato, è tutto quello che abbiamo già detto, però serve anche la costanza e quindi non vi preoccupate se a volte si può disperdere un minimo budget di marketing, cioè non muore nessuno fondamentalmente, perché spesso ci troviamo, ah io ho investito 1.000 euro, mi sono rientrato il 2005 col mio margine e non ci ho guadagnato, ho capito, ci avrei rimesso 100 euro, ma hai raggiunto 20-30 mila persone, specialmente su Facebook che spesso si guardano i tassi di conversione, pensate a quante persone potete raggiungere con Facebook, cioè con 1.200 euro abbiamo raggiunto 300 e passamila persone con un ads, e sono tante, sono tante 300 mila persone, pensate a un negozio che la sua vetrina può essere vista a 300 mila persone, quindi bisogna lavorare con il giusto messaggio e puntare ad avere visibilità, senza essere strettamente legati al ROI puro, tant'è che i grossi lavorano in ROI negativo, cioè se prendete Zalando, Zalando ci rimette nella prima acquisizione del cliente, perché arriva a spendere anche oltre 100 euro per acquisire un cliente, poi ci incomincia a guadagnare con le vendite successive, perché la loro politica è investo tantissimo per acquisire e poi grazie alla fidelizzazione guadagno su quel cliente, quindi può essere anche una strategia fatta in questa maniera qui. 2017, 2018, 2019, ovviamente questo è legato a un Excel dove c'è tutta la generazione del fatturato per canale, questo è il grafico anche questo legato all'Excel del fatturato, del margine, dei costi e dell'utile netto, nell'Excel che se mi avete seguito altre volte ho fatto proprio un webinar su questo, quindi se avete un modo di andare su, adesso vi do il link, un attimo solo, quindi c'è tutto spiegato come generare il fatturato, praticamente qui a sinistra ho i costi, qui, ecco il link su internet, lo trovate qui, ci sono tanti web, tra cui quello come calcolare i costi, per ogni canale andiamo a stimare quelle che sono le vendite, dalle vendite ci tiriamo fuori tra l'utile e quant'altro, quindi non buttiamo numeri a caso, ma assolutamente mi raccomando è importante che ci si parta sempre dai dati. Adesso prima di lasciare spazio alle domande, faccio un piccolo spazio marchetta, a giugno faremo dei corsi di approfondimento, dei laboratori sono 50 ore di formazione, non li tengo solo io, ma li teniamo insieme ad altri colleghi molto molto bravi, verticali su ogni tematica, siccome molti mi hanno chiesto che il corso di giugno era piuttosto approfondito per loro, abbiamo fatto una promo fino al 20 aprile che è possibile acquistare il nostro corso in e-commerce management, sono 30 ore più 10 bonus, quindi videocorso registrato di febbraio 2017 a 379 euro invece di 5,99. Questa offerta teremo valida per due giorni, ve la sto comunicando esclusivamente perché è un'opportunità, insomma grazie a Dio ne vendiamo già abbastanza, però se volete formarvi una buona opportunità, sono 40 ore di e-commerce dalla A alla Z, proprio in dettaglio trovate tutto, e poi invece chi è già approfondito, se venite a fare uno o più laboratori a giugno, saranno proprio verticali su le vostre esigenze. Oltre questo sapete che c'è la nostra pagina gruppo su Facebook per fare le domande, trovate questo qui il link, però ve l'ho messo anche prima. Adesso che abbiamo finito, abbiamo fatto un pochino di corsa dall'ultima parte, però pensate quanto è lungo un business plan e quante cose devo andare ad analizzare. Adesso facciamo un question time, se dovete andare via mi potete scrivere le domande sul gruppo di Facebook, altrimenti io rimango altri 10-15 minuti, insomma il tempo che volete, che vi rispondo alle vostre domande. Quindi se volete scriverle nella parte delle chat, incomincio a rispondervi. Allora, ciao Massimiliano, una domanda, come posso testare un e-commerce? Parli di test nel senso di proprio vendere online? Ok, allora il metodo più semplice per testare un e-commerce secondo me è quello di attivarti per esempio su Store Eden. Store Eden è una piattaforma SaaS, tra l'altro è anche gratuita, quindi è a pagamento, è gratuita se gli riconosci una vendita, mi sembra del 3%, una feed sulle vendite del 3%, oppure costa 100€ al mese e ti attivi, è già possibile integrarti con Amazon ed eBay attraverso dei loro plugin, quindi tu in una settimana puoi avere il sito, ci metti i prodotti, hai già il tuo sito, sei già su eBay e Amazon, quindi hai già una visibilità e sei già online, e poi ci puoi fare marketing sopra, quindi è molto molto interessante. Stiamo pensando proprio con Marco, probabilmente lo fa lui, di fare un webinar per i piccoli budget, i piccoli startup su Store Eden, oppure anche Shopify. AdiWars è pubblicità a pagamento che tu puoi fare su qualsiasi piattaforma web, insomma, se il tuo sito è fatto a mano in HTML, in Magento, in Store Eden, in Shopify, ad Google, non gli interessa minimamente, basta che paghi e puoi fare AdiWars e pubblicità sul tuo sito. Importante che ci siano la privacy, la partita IVA, insomma, che ci siano quel minimo di accortezze di legge. Alberto, grazie a tutti quelli che ci stanno lasciando, Alberto dice, un e-commerce di prodotti che devono tenere un prezzo di listino obbligatorio. Invece, in fase di trattativa one-to-one è possibile arrivare al 30% di sconto. Che strategia potrai usare? Interrompe il flusso e-commerce diretto? Sicuramente interrompe il flusso e-commerce diretto, sicuramente da chi ti vuoi nascondere verranno a sapere che tu fai poi dei prezzi a ribasso. Su un cliente che ha la stessa problematica utilizziamo il marketing automation, ossia solamente su una certa tipologia di utenti, quindi solamente sugli utenti che o hanno già acquistato oppure che hanno fatto almeno 3-4 visite, gli facciamo vedere degli sconti. e abbiamo escluso degli IP che sapevamo oppure che potevano collegarsi da lì. Altrimenti devi lavorare offline, devi lavorare con le mail, anche quella di richiedere un preventivo è vero che allunga il processo, però se sei in fase iniziale l'importante è crearti una buona base di clienti e poi cercare di venderci il più possibile sempre gli stessi. Una volta fatta un'attenta analisi di mercato, come trovare il giusto fornitore? Bella domanda, allora il giusto fornitore lo puoi trovare in mille modi, lo puoi trovare nelle fiere, lo puoi trovare girando, lo puoi trovare tramite agganci del settore è giusto però quello che dici Danilo di partire dall'analisi di mercato quindi prima di trovare il prodotto cerca il mercato dove ti vuoi inserire fai uno studio con le parole chiavi e vedi anche i competitor che ci sono se c'è spazio e puoi inserirti in breve termine incomincia a guardare fiere di settore puoi fare anche un po' di info ricerca su internet però sai già che magari li trovano anche altri se cerca di, se vuoi lavorare in dropshipping, di blindarti con dei contratti in esclusiva col tuo fornitore, altrimenti se incomincerai a vendere dall'altro prodotto a altri mille e incomincerà anche lui a vendere online quindi cerca di blindarti oppure creati il tuo prodotto e questa è la soluzione che io consiglio sempre cosa pensi degli infoprodotti? mi chiede Francesco beh li vendo quindi credo che sia un'ottima opportunità e non è facile venderli perché comunque non vendi l'infoprodotto, vendi quello che c'è dietro insomma c'è gente che vende infoprodotti perché è un bravo personaggio e quindi a carisma li vende c'è chi li vende grazie ai contenuti e spero che quello sia il mio caso e c'è chi li vende frottando gli altri insomma dipende uno da come li vendi quindi io do per scontato che li voglia vendere tu in maniera etica se poi per infoprodotti per esempio parliamo software piuttosto non so musica digitale eccetera eccetera sono attività ad altissima scalabilità e quindi puoi crescere velocemente però c'hai anche tanta concorrenza che ti può nascere nel momento in cui quello che fai produce dei risultati lo differente è per esempio come facciamo noi che vendiamo degli infoprodotti legati a per esempio ecommerce cool o alla mia figura prima di tutto vendiamo ecommerce cool e poi di conseguenza comprano i prodotti e però diamo anche ecco una cosa che devi fare dai tanto tanto materiale gratuito mettiti a disposizione se ti viene naturale come a me insomma meglio fontanelli allora scusate le domande sono tante un attimo dietro allora lvk3 ciao quali sono i requisiti essenziali per utilizzare al meglio google merchant center per ogni singolo prodotto quali dettagli servono necessita per forza l'acquisto dei codici a barre grazie mille allora questa è una domanda specifica su google shopping ti serve un feed di prodotti Google ti richiede delle informazioni obbligatorie sul prodotto non so descrizione prezzo giacenza eccetera il mio consiglio è di dare più informazioni possibili perché più il feed di prodotti che gli passi è completo e più ti indicizzi e migliore può essere il gtr e non sempre ti serve il gt in quindi il codice a barre ti serve però per molti settori quindi ci sono alcuni dove è obbligatorio degli altri dove non lo è però non costa molto comprare noi abbiamo comprato mi sembra mille e abbiamo speso 300 euro quindi comunque una spesa accessibile insomma se si vuol fare attività su google shopping ti consiglio lvk3 non so il tuo nome di andare nel link che vedevamo prima che è questo qui corsi e commerce school risorse gratuite e puoi vedere che c'è un webinar proprio verticale su google shopping quindi dura un'oretta te lo puoi fare in autonomia poi andiamo avanti con le domande finisco di rispondere a Francesco sì ma un infoprodotto professionale è migliore del semplice risolvere problemi un infoprodotto professionale benissimo l'importante è che deve comunque risolvere problemi qualsiasi cosa che vendi altrimenti non lo vendi quindi risolvere un problema ad un utente che sia un e-commerce a volte la vendita risolve un problema che è immediato che è quello che può essere un acquisto compulsivo oppure mi serve quel prodotto se vendi un infoprodotto e sei bravo a risolvere un problema specifico a Ranzulla è milionario grazie a degli articoli che risolvono problemi specifici magari saranno anche stupidi per molti però aiutano tante persone Danilo Remigio meglio lavorare su più prodotti caricando 10.000 articoli o pochi articoli modi? eh qui guarda Danilo qui il discorso è lunghissimo ti dico che se devi caricare 10.000 prodotti li devi anche gestire oggi per indicizzarti devi avere una scheda prodotto ben fatta video contenuti schede tecniche belle foto foto in still life foto fatte ambientate e quant'altro quindi se non hai un grosso team una grossa struttura ti consiglio di ridurre prodotti di lavorare nel dettaglio nelle schede del prodotto e ci sono e-commerce che fanno milioni vendendo un prodotto c'è non so dollar shape club che vende oppure bold king che vende la mette in abbonamento vendono un prodotto e fanno milioni di euro quindi non è detto che tanto corrisponde a tanto fatturato sicuramente se hai 10.000-15.000 prodotti e il database è fatto bene non sono copiate le descrizioni e quant'altro può essere un vantaggio competitivo per tutte quelle ricerche long tail che permettono di ricevere traffico avendo un catalogo così grande anche su singoli prodotti dettagliati quindi ragazzi credo di fare massima domanda a testa altrimenti non usciamo fuori Matteo Lorenzi depositato un brevetto sono in attesa dell'approvazione ok quindi prodotto nuovo mi conviene aprire un vero e proprio e-commerce o un wordpress collegato con paypal se volessi aprire un catalogo con suddetto prodotto principale ed altri secondari premetto che per ora abbiamo il prodotto finito e non sono sito allora se ho capito bene non avrai tanti prodotti ma avrai una sorta di monoprodotto io guarda se vuoi fare un bel lavoro lavorerei su custom wordpress ha diversi limiti cioè nel senso che soprattutto se vuoi andare a fare nel tempo all'inizio può andare anche bene però guardati come siti te li scrivo qui dollar shave club oppure bold king che sono siti monoprodotto che fanno poi anche del cross selling sono siti scritti puoi anche fare un wordpress per iniziare per carità però è molto molto importante se vendi un monoprodotto che lavori con l'immagine quindi quel prodotto deve sembrare il più prezioso al mondo ben posizionato value proposition è ottimo che il prodotto è tuo almeno non avrai competizione a lungo termine ciao Francesco sempre un piacere ascoltarti grazie Ivan oh Fontanelli Antonio la complessità di creare e-commerce per una rete in presa verticale con 70 aziende di settori totalmente diversi creare oltre alla vendita online un incoming della clientela nella sede fisica da questo mi serve una traduzione se ho ben capito vuoi fare un marketplace non non mi è chiaro domenico sono di parte ci sono wordpress che non hanno nulla da evitare è un sito milionario ripeto wordpress io ho unici siti su wordpress quindi dirti che non lo uso e sarebbe sbagliato poi per fare e-commerce non lo uso perché credo dopo tanti anni ho utilizzato altre piattaforme ci sono sitini in wordpress che fanno anche delle cifre però visto che se uno deve fare proprio e-commerce meglio andare su piattaforme pure di e-commerce magento pressa shop nascono per e-commerce bigcommerce nasce per e-commerce demandware nasce per e-commerce però per esempio wordpress può essere utile io ho un sito che faccio affiliazioni si chiama accessori indossabili lì faccio faccio fare contenuti all'interno dei contenuti metto prodotti di amazon con i quali lavoro in affiliazione questo è ideale perché perché mi indicizza bene i contenuti non vado a lavorare appunto come un blog non è un vero e proprio e-commerce oppure laddove devo fare molti contenuti e la vendita è complementare può essere anche una buona opportunità poi ripeto io per quanto riguarda la parte tecnica ho uno staff e di volta in volta andiamo a fare analisi funzionale e capiamo che tipo di cms implementare con con il cliente poi ognuno è libero ad utilizzare le piattaforme che vuole e soprattutto a seconda dei budget a fare le soluzioni migliori per il cliente secondo te allora secondo te un prodotto sull'arredamento potrebbe essere un buon business secondo la tua esperienza intendo oddio dipende sempre che cosa tutto può essere buono dipende che cosa che problema vai a risolvere e quanto è importante questo problema quanto queste persone sarebbero disponibili a pagare per risolvere quel determinato problema e poi se ci sono queste premesse perché no e poi vendere un infoprodotto solo con landing page è una buona strategia? sì però non so quanti infoprodotti credete sì può essere una buona strategia però comunque i contenuti li devi fare e li devi fare e devi avere magari un blog di supporto dove fai contenuti e poi hai la landing dove vendi il tuo prodotto infoprodotto insomma il webinar per aprire le parti di mese quello quando volete guarda mi ha dato un messaggio vi accompagno comunque sì se vendete soprattutto infoprodotti fate consulenza e quant'altro perché no insomma poi ho tanti altri colleghi che sono chi è io alle Canarie o comunque chi è a Malta e se non ha addirittura anche molti e-commerce si stanno spostando perché considerate che la maggior parte di altri e-commerce che sono all'estero vanno a vendere sui stessi canali e se l'e-commerce che ha la sede a Malta e paga magari il 4% di tasse è chiaro che ha un vantaggio competitivo rispetto all'Italia che dall'anno prossimo pagherà 25 e sono 20 punti in più e quei 20 punti in più se uno vuole se li mette sul prezzo anche e quindi sono vantaggi competitivi che in un mercato sempre più globalizzato vi permette comunque di insomma bisogna guardarci tant'è che ecco una cosa che non ho messo qui però nel business plan si può mettere anche tutta la parte proprio di apertura dell'attività cioè dove dove la si vuole aprire in quale sede e quali sono i pro e i contro allora mi chiedete quali allora l'ultimi 5 minuti e poi vi lascio ci sono settori commerciali nei quali gli influencer sono molto consigliati allora sì Riccardo nel food nella cosmetica nella moda e in generale comunque diciamo tu hai due strade sugli influencer puoi spendere o tutto col grosso influencer e quindi se non stiamo parlando di testimonial poi parliamo proprio di di influencer nel settore può essere un blogger eccetera però importante oppure puoi dividere il budget su più influencer che valgono meno questa è già una strategia da pensare io a volte ho fatto una a volte ho fatto l'altra dipende un pochino dai settori con buzz che è quella piattaforma che vedevamo prima puoi diciamo fare dei dei briefing a partire da 500 euro e ti trovano loro gli influencer del settore oppure fai tu una ricerca e è buona buona cosa diciamo puoi involgerli però in fase iniziale sai già che il ritorno non è detto che sia eccellente poi ci sono dei casi per esempio c'è un grosso brand di cosmetica un grosso un brand di cosmetica italiano che fa proprio lui produce prodotti che c'è questa influencer che gli da l'8% di affiliazioni nelle vendite che quando fa dei webinar o comunque fanno dei post eccetera gli genera dei fatturati al giorno anche di 20-30 mila euro quindi non solo influencer ma anche blogger che vogliono lavorare in affiliazioni poi per chi vuole vendere singoli ecco poi per chiudere il discorso webinar l'ultima cosa ti faccio vedere considera che abbiamo invece se vai sui grandi questa è Veronica Ferraro e Ida Domenec abbiamo chiesto il preventivo questa agenzia questa brand che cura diciamo gli influencer di un certo tipo e qui per 8-10 post ci han chiesto 25 mila euro per 8-10 post quindi se vai sui grossi spendi anche queste cifre la Chiara Ferragni sei da 50-100 in su quindi Buzzle se vuoi partire con basso budget anche se secondo noi sinceramente poi ce le andiamo a prendere ad hoc quindi facciamo noi le ricerche perché gli influencer non devi mai guardare i follower su Instagram ci sono dei dei bot che ti permettono di fare anche mille follower al giorno se vuoi quindi non devi guardare tanto ma soprattutto che rich hanno e poi chi è che li segue perché per esempio una volta un cliente ha utilizzato per come influencer per delle scarpe diciamo un pochino aggressive con tacco 20 nel settore sempre fashion una signorona molto avvenente di 40 anni il problema aveva un milione di follower ma questo un milione di follower non erano altre signorone avvenenti che dovevano comprarsi quelle scarpe ma erano un milione di ragazzi allupati quindi è importante capire chi è il target di quegli influencer questo è fondamentale poi ultime domande ciao a tutti e grazie a voi di aver partecipato chi sta andando via sto aggiungendo allora Marco Calì per chi vuole vendere singoli prodotti monomarca quali strategie deve usare il sito quante pagine deve contenere oddio questa è una consulenza e bene il monomarca soprattutto che sia che sia tuo più cioè il contenuto ne deve avere più possibile fondamentalmente a livello proprio anzi visto che hai tanti prodotti puoi concentrarti nel lavorare in maniera verticale sulle singole schede prodotto aumenta le descrizioni fai le approfondite fai video se hai un prodotto da montare fai vedere come si monta quindi cerca di andare più in profondità possibile e cerca insomma anche di differenziarti sempre rispetto a quella che è l'offerta e sto aggiungendo ad una mini catena retail specializzata sul food di qualità dove dovremmo creare e-commerce con max 50 prodotti dice luigi sito sviluppato customizzato tema rosa di wordpress posso usare woocommerce che ne pensi a piattaforma emotion allora per forza di cose devi usare woocommerce dentro wordpress perché altrimenti non puoi fare e-commerce e ok dovremmo creare e-commerce con max 50 prodotti anche qui cerca di curare al massimo i tuoi prodotti a livello proprio di contenuti se è home page si chiama e la piattaforma emotion funziona benissimo quindi io ho diversi piccoli clienti che la stanno utilizzando non ce n'è una che non è contenta se lo vuoi approfondire Luigi se vai sul nostro blog e-commerce cool blog cerchi su google fai una ricerca all'interno del blog e scrivi e-motion ti viene fuori un articolo c'è un'ora di video dove viene presentato proprio da emotion stesso tutto il servizio questo ti può aiutare magari magari a capire un pochino più come funziona la loro logistica però al momento funziona bene insomma non ho mai avuto lamentele chiudiamo con ciao a tutti ciao grazie a voi chiudiamo con la domanda di Laura che sarà così gentile da aspettare fino adesso e per chi fa assistenza ai riparazioni cellulari che piattaforma conviene usare per avere nuovi clienti della zona in modo da gestire il budget e indirizzarlo dove serve allora se ho ben capito avete più punti vendita e quindi l'obiettivo è quello di mandarli su più punti vendita a seconda del geomarketing dal quale arrivano allora io ripeto su WooCommerce ci ho lavorato un paio di clienti lavoro da sempre sulle altre piattaforme l'ho mollato lì perché comunque non li seguo però insomma lo conosco abbastanza non ci ho mai fatto automation probabilmente si può fare anche su WooCommerce quando ci sono siti del genere noi facciamo siti proprio customizzati cioè li scriviamo ad hoc perché spesso ci possono essere delle delle particolarità che magari andare a gestire con cms un po' leggerini non è sempre il massimo quello che ti serve fondamentalmente è fare cosa? è avere tante pagine per ogni negozio ogni negozio deve avere la sua pagina e a seconda di quando arriva l'utente sul sito a seconda della sua geolocalizzazione il software di marketing automation deve riconoscere da dove si collega e lo indirizza direttamente alla pagina di riferimento oppure gli fa uscire un box che lo inviti al punto vendita più vicino comunque devi sfruttare assolutamente la multicanalità in questo caso e internet con la tipologia di business che hai tu funziona perfettamente quindi pianifica se non avete un business plan fattelo fare però una volta che hai pianificato poi saprai nel dettaglio cosa ti serve anche a livello funzionale anche perché devi andare a prevedere una serie di integrazioni con quello che già c'è quindi con il gestionale che già avete perché tutto deve essere integrato ed automatizzato allora io credo di aver finito proprio l'ultimo l'ultima domanda se volete e poi cerchiamo ciao grazie a tutti grazie Laura grazie Valentino 3 2 1 ciao a tutti ci vediamo la prossima la prossima settimana faremo un webinar su come trasferirsi in Slovenia e no a parte gli scherzi sugli errori che commentano gli imprenditori prima di aprire un e-commerce quindi molto molto interessante a presto grazie a tutti grazie a tutti